Chiamami ancora amore, le anticipazioni della seconda puntata. Nella seconda puntata vedremo come i due che un tempo si sono tanto amati, cercheranno di distruggersi. L'amore è finito e ora resta solo il rancore, utilizzeranno il figlio Pietro come arma nella loro guerra. L'assistente sociale dovrà quindi valutare la loro capacità genitoriale. L'assistente sociale nella prima parte della puntata indagherà su Anna, perché Enrico farà una segnalazione contro la sua ex. Enrico racconterà di aver spiato la moglie poco dopo la nascita del figlio, in quanto sarebbe stato preoccupato del legame tra i due. Nella seconda parte della puntata, Rosa, una volta che si è fatta un'idea sulla mamma di Pietro, sposterà l'attenzione su Enrico. Parlerà anche con l'allenatore di calcio di Pietro e la situazione per l'uomo sembra mettersi male.